C'è uno dei problemi dei crolli dei perimorti, il fatto che questi capannoni pare che siano stati costruiti non rispettando le norme antisismiche, perché quella zona è forse dal 2005 che è stata resa sismica e via di seguito, ma tutta l'Italia fino al 2003 era classificata, come era? La storia della classificazione è abbastanza articolata, non è semplicissima da raccontare in pochi minuti, però l'idea di fondo è che fino al 2003 l'Italia non era tutta classificata, è stata classificata come sismica in tutta la sua completezza solo dal 2003, quella parte lì fino al 2003 era non classificata, nel momento in cui è stata classificata è stata classificata come zona 3, quindi con un rischio moderato e quindi bisogna verificare prima, se sono stati costruiti dopo e poi oltretutto con che modalità sono stati costruiti.